Mi chiamo Grazia Raga, faccio parte del DRFI, il gruppo chiamato Terminale Servizi. Sono contenta che ad oggi siamo riusciti ad avere in stazione questo centro, dopo vari tentativi. Aver portato il sociale in stazione per noi è veramente un traguardo, è stato un traguardo ambito, finalmente ci siamo riusciti, anche perché si parla sempre di ferrovia come una cosa statica, una cosa fredda, una cosa un po' particolare, che non ha niente di sociale. Invece con questo forse possiamo mostrare all'esterno il nostro cuore tenero, che è quello di aiutare le persone con un centro del genere. Poi è una cosa formidabile, perché oggi, già guardandoci intorno, vedendo questa giornata meravigliosa di sole, questo giardino degli ulivi che rappresenta l'ulivo, la pace e la cooperazione tra persone che ne hanno bisogno, più di noi probabilmente. Quindi ci sentiamo veramente onorati. Poi grazie pure alla vostra presenza qua, ci avete aiutato con il vostro studio, che avete portato avanti, veramente da voi è nato questo, perché noi avevamo il disagio sociale in stazione, nel senso che vedevamo forse solamente il lato negativo, però grazie a voi abbiamo imparato a conoscere anche la gente, ogni singola persona, ci avete raccontato pure le loro storie, e forse è appunto per questo ci siamo immedesimati ancora di più nella situazione. E oggi veramente siamo orgogliosi di essere arrivati qua, assieme a voi e assieme a tutti quanti, tutti quelli che hanno collaborato con noi.